Musica Come on! Musica ...e a Dio quel che è il Dio, solo che ogni tanto Dio, è il Dio, 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 no, no, vorrei che Dio in questo momento si ricordasse, te lo ricordi vero che c'è l'ISIS? Eh no, te lo ricordi? No, dico, visto che io non ho problemi perché a me sai che mi fanno, ma le nostre giovani, le nostre ragazze, proteggiamo le ragazze, le nostre ragazze. Vabbè, io direi che non vediamo l'ora da se, non lo possiamo, è il preferito, io starei una settimana a fare tutti, con Fiorina, ma però, sai che cos'è l'attore? Cos'è? L'hai mai saputa la definizione dell'attore? Io ho scritto un libro e ho cominciato con la definizione, non è mia, è di George Bernard Shaw, attore, colui quale andando a un funerale vorrebbe essere il morto. Ciao!